Bisogni e diritti, servizi e progetti per bambini, adolescenti e giovani. Esperti e operatori a confronto al convegno diritto di crescere. Appuntamento mercoledì 19 novembre dalle 9 alle 18 al Galata Museo del Mare di Genova. È un'iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Liguria per la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Grazie.